Benvenuti alla Cocotte! Siamo nel centro di Firenze, a pochi passi dal Mercato Centrale e da Piazza Santa Maria Novella. La Cocotte offre l'esperienza del buon vivere italiano attraverso una filosofia del gusto che comprende buon cibo, arte della tavola e design, a qualsiasi ore del giorno e a prezzi tutto sommato accessibili. È un'occasione per tutti coloro che amano regalarsi un piacere, ma anche l'opportunità di conoscere e acquistare i nostri prodotti e portarli direttamente a casa grazie alla nostra esclusiva idea di design, che è un contenitore in polipropilene, che noi abbiamo chiamato l'Acocotte, che ti permette di rivivere le sensazioni e i piaceri gustati nel nostro locale e che puoi successivamente riutilizzare per scaldare o surgerare i tuoi cibi. Al fine di poter dimostrare a tutti i nostri clienti la qualità dei nostri prodotti sono stati studiati tre tipi di menu degustazione differenti e poi per il prossimo inverno stiamo organizzando eventi culinari a cui parteciperanno chef di tutta Italia, presentando le loro specialità nella nostra cocotte e che potrete tranquillamente portare a casa vostra oppure ordinare online. Non mi resta che invitarvi a provare i nostri bistrò di Via Gioberti e Via Nazionale e a seguire tutte le novità e gli eventi che abbiamo in servo per voi sul nostro sito. Vi aspettiamo!